Questo tipo di partita ti dà forza, ti dà entusiasmo, ti dà il credere in tutto quello che è stato fatto anche per arrivare a fine campionato, sempre guardando il vertice, poi vedremo anche le partite che restano, le altre squadre cosa fanno e cosa faranno, perché qui praticamente è una lotta, è una lotta con diverse e noi dobbiamo cercare di fare il massimo. È una lotta che riguarda più squadre la bagar playoff e della lotta, come la definisce Devi Orlandi, c'è anche il suo Casarano, che dopo la vittoria a Capozza contro il Nardone al recupero del derby Salentino ha ridotto anche da 9 a 6 punti il margine della capolista Taranto. Partita complicatissima per i rossazzurri in 10 uomini dal quarto d'ora del primo tempo e sotto di un gol in avvio di ripresa, poi ci ha pensato Negro con una doppietta in pieno recupero a firmare il clamoroso ribaltone. Una partita che si era messa subito male per l'espulsione e quindi poi diventava difficile trovare delle manovre perché potessero portarci alla conclusione verso la porta avversaria, però i ragazzi sono stati tutti eccezionali perché hanno messo il cuore oltre l'ostacolo, quindi vanno elogiati tutti quanti. Il campionato di Serie D si ferma domenica prossima, non per tutte però, non per il Casarano, in arrivo per gli uomini di Nevi-Orlandi, infatti un altro recupero, c'è un altro derby in scaletta, al Capozza arriva un gravina rigenerato dal successo interno contro il Real Aversa, il primo della gestione Pasquale De Candia, il tecnico del triplete del Casarano, sarà dunque il grande ex della partita, l'allenatore della vicecapolista invece si preoccupa solo a recuperare le energie mentali e fisiche. Abbiamo diverse situazioni da valutare sotto il profilo fisico-atletico, intanto bisogna cercare di recuperare le energie perché giocare tutta una serie di partite così e con questo ardore non è facile, è molto dispendioso sotto il profilo energetico e quindi da domani pensiamo alla prossima.